ciao a tutti oggi vedremo come abilitare la funzione transponder nello jesu ftm 400 una volta impostate le nostre frequenze utili ovvero quella principale e quella sulla quale io voglio abilitare il transponder ne ho presa adesso una a caso mi raccomando che siano una in v e una in u bisogna procedere così spegniamo l'apparato premiamo in contemporanea il pulsante gm f e display e poi accendiamo l'apparato quindi in contemporanea premiamo gm f e display e accendiamo l'apparato ecco qui che l'apparato si è avviato e troviamo la scritta x repeater facciamo un test andiamo in trasmissione nella frequenza in u 435 975 e vediamo cosa succede ecco qui che il transponder è abilitato correttamente se spegniamo l'apparato e lo riavviamo rimarrà sempre la funzione transponder abilitata per disabilitarla dobbiamo spegnere l'apparato e riavviarlo nuovamente tenendo premuti i tre tasti e poi l'accensione premuti quindi gm f display 123 accendiamo ed ecco qui che la funzione transponder è stata disabilitata grazie a tutti per aver visto questo video iscrivetevi al canale ci vediamo alla prossima